Allora siamo con Antonio Pandiscia, allenatore del San Cipriano, per San Cipriano Anticasassa terminata 1-1. La tua squadra è riuscita a riaquantare il risultato a 10 minuti dal termine dopo il vantaggio iniziale della squadra ospite. Un commento alla partita da parte tua, grazie. Purtroppo dopo 5 minuti siamo passati subito il svantaggio e lì è stata difficile. Comunque al primo tempo abbiamo giocato benissimo, una bella partita. Abbiamo creato 1-2 pali gol, non di più. Secondo tempo invece finalmente abbiamo cambiato atteggiamento, più incisivi, abbiamo cominciato a giocare un po' più palla a terra, creando diverse pali gol. Purtroppo in questo momento concretizziamo poco rispetto alle occasioni che creiamo. Poi a 10 minuti dal termine l'abbiamo pareggiata, abbiamo provato anche a vincerla, peccato ma alla fine il pareggio è giusto. Abbiamo giocato contro una squadra e mi faccio complimenti anche a Lampia. Per concludere, me lo fai un commento su questa prima parte di campionato, sulle sue squadre? Sì, allora, le squadre che probabilmente lotteranno per il primo posto saranno 4-5 e fino alla fine ce la tratteremo con tutti, sia noi che anche Lampia sicuramente. Grazie mille Antonio. A te. Grazie mille.